Non ho più la cosa qua, tra due minuti sto schiattà, vanno così, quell'altro, ah sono due, sono due, penso che era uno E usciamo fuori dal laboratorio? Benvenuti in me, me molto altro, sono il main arancione, sempre con sta cazzata qui Comunque andiamo avanti nel nostro gioco e andiamo a vedere cosa dobbiamo fare, nuovo episodio ovviamente e andiamo a vedercelo, godercelo tutto Allora hanno migliorato alcune cose di questo gioco, di Dying Light 2 e andiamo a vedere, intanto è buio perciò attenzione Allora andiamo a vedere se possiamo fare qualche missioncina dal diario Allora l'unica via di uscita è l'impresa principale, facciamo questa, va A 256 metri, vediamo un po', orientiamoci Allora Andiamo un po' dalla mappa Allora dove dobbiamo andare? Perché non l'ho attivata la cosa qui, come si fa? Mostra sulla mappa Ah ok, qui a Horse Shows Ok, già c'è il puntatore, andiamo Intanto qua cos'è? Eh questa la chiave non ce l'ho, mannaggia la miseria, ancora non ce l'ho Ah no, si è aperta Si è aperta Pensavo di non avercela, invece oh Andiamo Andiamo giù, non l'ho mai vista queste cose Sto caschando, mi sono fatto malissimo Allora Sono pericoloso addirittura Ok Segui il tupo giallo per orientarti all'interno della zona di quarantena grey Allora di qua non c'è più nulla C'è una porta senza pomello La torcia, ok Ho sbloccato una cosa che io non sapevo Esisteva Allora mettiamoci No, sbagliatissimo Allora aspetta Ah ok, come si faceva qua? Mamma mia, già ci stanno qua Ammazzalo, ammazzalo, via via Shhh, shhh, shhh Silenzio, silenzio Allora prendiamogli le cose E qua dopo andiamo magari a vedere dentro gli sportelli Tutto quello che ne deriva Allora guardiamoci bene intorno qui Beh sono tutti di livello 1 Perciò Sono anche attaccabili normalmente Però magari è meglio così Meglio farlo tutto in furtiva Anche perché magari dopo insieme Sono pure più forti Tanto ti schiatta, bello mio Allora ce n'è un altro là Un altro di qua E mi sembra basta Almeno Ah no, ci stanno pure laggiù Allora facciamo così qua Se non si sveglia quello Va bene Se no Sono cavoli nostri Allora facciamo il giro qua Poi andiamo a prendere anche gli altri Allora Eccolo E qua c'è tanta roba da prendere Allora piano piano Ah pure qui c'è un altro di questi Tutti di livello 1 Stranamente La prendi Ma cos'è la resina buona Eh guarda qua che macello Fa un bel macello Allora cerchiamo di Fare le cose come vanno fatte Apri Prendiamo la roba qua Allora mi sembra basta Qua dentro Ok andiamo avanti Andiamo dentro sto canale qua Eccolo Eh donna Versa la luce La cosa lì O se no Ho sbagliato Come si faceva Che non ho più la cosa qua Tra due minuti sto schiattando Ammazziamo prima tutti questi E magari andiamo verso l'entrata Eh nuova faccia Devo ritornare all'entrata per forza Guarda qua quanti sono Immunità Immunità bassa Eh lo so Un minuto e 48 Però già la potremmo fare Questa ammazzalo Allora vediamo se c'ha qualcosa di utile Mi sembra niente Questa cosa Dell'immunità Se sono svegliati Ma dove era qua la cosa per l'immunità Devo andare su per forza Andiamo su un attimino Riprendiamo parte dell'immunità Dove era qua Ah ok qua Rampighiamoci Senta rampighi Oh Come si saltava Ah ok così Vai 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 Immunità critica Vai 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 Non mi ricordavo come si saltava Perché è un pochino Che non ci gioco Ok possiamo ritornare giù Magari non così però Insomma va bene lo stesso Entriamo qua Tutto in velocità Vabbè Noi combattiamo così Dai eh Anche se questo L'ho ammazzato bene Vai Ammazza questo Ammazzalo No il computer è qui Vai 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 Schiatta amico mio L'immunità è bassa Però qua devo raccogli Tutta sta roba È oro Allora vediamo se qua si apre Ah ok Devo fare quella cosa Allora così no Dai dai Buono Buono L'abbiamo fatto Ok Qui ci sono i componenti Del gre Inibitore Articolo leggendario Buonissimo Qui mi sembra che ci sia qualcosa Un nastro Il rapporto del gre Allora vediamo di qui Di aprire Eh lì ce n'è uno Tocca ammazzarlo Così Vai amico mio che sei morto Eccolo qua Allora Di qua però c'era dell'altro Magari entrando qua Uno dovrebbe stare pure attento A quello che fa Vai 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 Però devo dire la verità Lì c'era una cosa da prendere Qua di dietro C'era tipo una porta strana Tutta fatta Con Vediamo No 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 Non ti aggrappa Vai Eh ma qua Rischiamo roba Pandemia Vai apri 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 Eh vabbè Ho fatto un errore Qua forza Forza Gli apodemo fa Eh vabbè Non ho più un green maldelli Allora Ritorna fuori Ritorna fuori Immunità bassa Creiamo un green maldello Qua Creazione Ok Crea No vabbè Crea Ne altri sei Dovrebbero bastare Per entrare là dentro Anche se Con due minuti Me la rischio qua Eh Vediamo se possiamo fare Invece di qua Che magari c'è qualcosa Tipo una luce ultravioletta Roba simile La rischiamo eh Eh no Meglio non rischiarla Perché non gli ha famo Poi se non c'è L'ultravioletto Dobbiamo tornare Tutto indietro E rifarlo Ok Dov'era qui la porta Si stava qua Sopra Ok Andiamo su Una bella dose Di luce ultravioletta Riprendiamo un po' E ritorniamo giù Ok Ok va bene Va bene Così andiamo giù E ora Devo fare Ci riproviamo qua Allora qua Qua non c'è niente A quanto pare Eh Devo per forza Riuscire qua Vai 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 Apri Allora così No Così non si apre Com'è sta seratura Maledizione Non si sblocca Dai dai Eccola Ecco la combinazione L'ho trovata No Dai ci abbiamo un minuto Un po' più così Che non si apre Maledizione Mannaggia oh E allora da stare tra parte Così No Per forza Dell'ha però Non me lo fa fare Eccolo 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 Fatto vai Apri 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 Ok Possiamo anche Tornare indietro Che cosa Abbiamo indiettata Infermiere Torniamo indietro Tocca farla così Questa Per forza Proprio De cose Andiamo a scoprire pure Cosa c'è Oltre l'ascensore Dai Ritorniamo giù E' un po' Una missioncina Diciamo Una cosa Un po' lenta Però Bisogna farlo così Cercherò di andare Ancora più veloce Però ci sta Allora Vediamo qua Nulla Devo entrare qua dentro Vediamo che si può fare qua Stando sempre attenti A quello che fanno Ma qui non c'è nulla Devo aprire qua Ovviamente Vai 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 C'è una cassa Da lì Staremo a vedere Se sia un'arma O dell'altro Ma questo è Questo come faccio Allora devo fare così Ok L'ammazzo Bello mio Ma ammazziamo tutti i zombie Perché sennò Qua non c'è Se riesce Ammazzalo Ammazzalo Zitto Zitto Che non te sei svegliato Zitta Guarda te Non ha questo Ok Ora c'è un altro Allora Guarda come Se mimetizzano Non credo che Si siano svegliati Pialo E pialo Da dietro Vabbè va Va bene così E l'altro Si sono svegliati Vabbè Mi pareva ovvio Un po' di movimento Gli ho fatto staccare La testa Vieni qua Tu Ok Ecco Vieni te Vai E mori Questo è morto Questo va anche Ok Ce n'è un altro là Buono così Quell'altro Ah so due So due So due Penso che era uno Ero partito a gestirne uno Invece Erano due Capito Ruttami Vuoto Ruttami Buono 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 Stiamo facendo incetta di cose Allora Apriamo qua Ah Chiusa dall'interno Quindi si apre da qua No Chiusa dall'interno E quindi Come la apro Intanto apriamo Quest'armadietta E vediamo cosa c'è qua dentro Sapone Tutta bella roba Allora Chiusa dall'interno Qua Ah Scassi No Ok Eh ma non c'ho più la cosa Mannaccia La vediamo Non c'ho più la cosa Ah ok Ce l'ho Ok L'ho riconquistata L'ho riacquistata Vabbè Apri qui Sembra ovvio Tre monete Sette monete Qua dentro Va bene Ok Prendiamo roba qua Utile Probabilmente C'è della roba Da prende Resina Ok Sempre sta cosa Deste cose Tutte Vediamo Vai 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 Ah Per poco Per poco Vai 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 Che buona Emo aperta Emo aperta Va bene Va bene Possiamo uscire da qua Vediamo che non ci sia dell'altro No Usciamo Ok Qui c'è della roba Pigmenti Antibiotici Ok Formula immunità Va bene così Là dentro c'è qualcuno No Ma io Ammazzo Ecco Ah Bello Ecco Questa però Non so se Ma la cago Con sto tubo Qui stiamo Questa Un po' di Energia Per ammazzarli Eh Guarda quanti so Eh Sono parecchi Qua Qua Toccava Le cose Fatte Bene Acchiappiamo tutto Quello che c'è da Acchiappar Qua Guarda i borzoni Che ci stanno Saponi Vabbè 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 Abbiamo se Un'altra dose Quello che sta meglio Mettiamo se qua Saponi Pigmenti Ok Andando sempre più avanti A fondo In questa cosa Che è un Nascondiglio Non lo so Una specie di Laboratorio del Gre Una parte Del Vediamo Andare sempre più giù Qua Ma De pare che è così Ok De qua Non c'è niente No Qua sotto Nemmeno Andare sempre più Più dentro Più sotto Volevo dire Però Però Come ambientazione Urlatore C'è Boni Ok Aspettate Un attimo Che devo riflettere Qua Ok Guarda i morti Qua Abbiamo sta roba Cerchiamo Sapone Resina Come faccio An ammazzare Quello Dov'è L'urlatore Allora Riflettiamo Vai così Ma Potremmo Stare pure Lassopra Allora Lì ci sono Gli zombie Qua C'è lo zombie Allora Vediamo Guarda qua sotto Proviamoci Proviamoci a Sartà Ma è Buono così Cerchiamo Da Sartà Qua Zitto 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 Che non ci ha visto Che non ci ha visto Ci ha visto Ok 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 Si è rimesso a posto Ammazziamo prima Che ammazziamo prima qua Ammazziamo prima Quell'altro Guarda quanti so Qua dentro E davvero Non so Che fa Eh Udà Ammazzo Uno per uno Famo così Va Il vecchio metodo Non fallisce mai Qua Dove Qua Mo se Devo impegnare Eppure Tanto Mancia La miseria Non ce ne manco Più le armi Tra un po Ne manco Più le armi Immazzali Cori 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 Carta qua E piede La cosa Medicina Qua Eh Vai 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 Ammazzalo Ammazzalo Quanti so Maledetti Sto finendo Le armi Sto finendo Le armi Però io voglio Farla sta cosa Ok Salute Bassa Però possiamo Ce ne abbiamo due Di questo Insomma Potevo anche Lasciarli lì Dove stavano Però Eh Ho detto Se magari c'è roba Che posso prendere Qua Che faccio Ok E poi Tutta roba Che mi servirà Dopo Nel Nel Proseguo Del gioco Magari Magari Non strettamente Necessaria Però Insomma Meglio Avercela Che non Avercela Insomma Allora Qui mi pare Che non c'è più Niente da prendere Roba simile Forse qua Si Tutto alcol E roba Che poi Bonus Notte Ecco Abbiamo anche fatto Level up Per così dire Abbiamo Abbiamo qua Abbiamo Piano Questi Ammazziamo tutti In furtiva Uno L'altro De qua Abbiamo Così Abbiamo pure Quell'altro Ammazza Sono tanti Perché mi sei girata La telecamera Così All'improvviso E mori Ammazza Ah perché Non c'ho più La resistenza Mannaggia Vai 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 Eppure Quest'altro Fono così Vai E mori Ammazzato Ok Questo è morto Ci stiamo Ci stiamo Ci stiamo Ok E qua c'è roba Da prendere Da fa Allora Scassiniamo Qui E andiamo Come fare Meglio Dei cosi Ok Vai Vai Buono Buono Ci siamo Ah no Ho preso il coso Non dovevo Prenderlo Vabbè Ho sprecato Poche parole Ok Inibitore Centro Genomico THV Ok Qui Cosa c'è Ah qua Si può entrare O no C'è la luce Ah si che si può entrare Però aspetta Voglio vedere qua Che c'è roba Da prendere Da fa E qua c'è roba Da prendere Cos'è questo? La tua arma È quasi Distrutta Oddio Questo cos'è? Ah il cristallo Quelli che poi Posso venderli Ok Qui Vai Cerchiamo di farlo Vai 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 Eh mannaggia Per poco Vai vai Eh per pochissimo Vai Ok Lo apro E c'è tanta Bella roba Che poi Tu che vedi Usciamo da qua Vabbè Usciamo da qua Allora Qui Non c'è più nulla Da fare Da vedere Tranne che qua Forse Però mi sembra Che Chiuse dall'altra parte Ah ok Era qua Da Vabbè Facciamo così L'apriamo giusto per E passiamo Dall'aeraggi Ultravioletti Qua E usciamo fuori Dal laboratorio O da quello Che era Sta cosa Ok Siamo fuori E qua ci stanno i zombie Però eh Andiamo subito Alla sopra Ma si Perché no E vediamo Il da farsi Ok Stiamo in una specie Di sicurezza Per così dire Vediamo un po' Che c'è da fare Abbiamo fatto tutto Il laboratorio Guarda qua Quanti sono Allora Cerchiamo di andare Verso Lì Vediamo a che punto Siamo Con la mappa Ah ok Praticamente Ok Dobbiamo fare Tutta la cosa Va bene Andiamo sui detti Andiamo un po' Dritti Così Ok Arriviamo Piano Piano Senza Pritta Guardate che Spettacolo Qua Come si vede Sto gioco Ok Stiamo Sopra Allora Devo arrivare Il livello Devo stare attento A non ammazzarmi Allora Fiamo così Fiamo così Eh Non l'ho preso Mannaggia la miseria Vabbè Scendiamo Eh Devo subito Trovare Un tetto Un tetto Forza 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 Trampicate qua Pure sopra Arcoso Qui A 200 metri Praticamente Guardate Ce la devono Fa per forza Arrivarci Quanto meno Garampicamose qua E vediamo Che ci sta Pieno De zombie Intanto Un po' Più Del solito Questo cos'è Vediamo Un po' Se ho qualcosa Da aprire Da fare No Non mi da La cosa Per aprire No Allora Arriviamo Lì A 100 metri Dice che c'è Un container Vicino Ma è Troppo Non ci andrò Assolutamente No Cerchiamo Da saltare Su quel Tettino Vai Eh Vaffancina Però Allora Qua Devo fare Una bella Cosa Fatta Bene E corsa Sopra Il furgoncino E andiamo Qua A 20 metri Dove devo andare Però Per fare Prima Tecnicamente Mi devo Arrampicare Però Non ce la farò Mai Arrampicare Ma perché S'ho Cascato Così Mannaggia La miseria Devo andare Sopra Vai 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 Arrampicare Sulla finestra Vai 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 Sopra 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 Qua che c'è Allora Quelli si stanno A ammazzare Che i zombie Ma a me Non mi interessa Niente Allora Io sono arrivato Qui E nel prossimo Video gameplay Cercherò La sorella Maya E Per il momento Io direi Che può bastare Qua Il main Arancione Vi saluto E vi aspetta Nel prossimo Video gameplay Yuhuuu Intanto arriva Questa Aspetta Eh Ma arrivi così E io stavo Salutando I miei Visualizzatori Di video Ok Possiamo Finirla Anche qua E Ciao Ciao